La Castellano Udas consolida il primato in classe di che vince con autorità in trasferta sul terreno del Valentino Castellaneta per 71-89 nella quarta giornata di turno della Serie C Silver di basket. I biancazzurri di Cici Morinelli in attesa del rientro di Gammarota puntano sul solito tridente Sims Cooper Marchetti per proteggere al meglio White Nelson e Novavich. Arrembante il 2 americano che in poco tempo piazza subito un più 6 autorevole. Dall'altra sponda i paresi con Nuovo e Novavich cercano di rimanere sul pezzo e a fine quinto quarto si chiude 16-25 per la Castellano Udas. Gli Udassini primeggiano senza troppo strappare anche nel secondo quarto fino ad arrivare al massimo vantaggio di più 15 che si manterranno nonostante i padroni di casa in termini di reattività sono abbastanza molli. Al rientro per l'intervallo lungo Castellaneta 29 e Castellano Udas 41. Ultimi due quarti di pure routine per i cannibali che si portano a casa la vittoria tra gli applausi dello sportivissimo pubblico di Castellaneta. Poco tempo per recuperare energie in vista della sfida casalinga contro Altamura domenica 8 gennaio. Mimmo Siena, Speciale News. Mimmo Siena, Speciale News.